Canne della Battaglia, un sito archeologico da tutelare e valorizzare meglio. Sono queste le parole di Nino Vinella, presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, che ai nostri microfoni denuncia lo stato di abbandono in cui versa l'intera area. I motivi sono prestodetti. A pochi metri dalla stazione ferroviaria, recenti scavi hanno portato alla luce i resti delle terme di mercurio. Tali scavi sono rimasti incompliti e protetti solo da una recinzione in plastica. L'aria è facilmente raggiungibile da chiunque e questo ne aumenterebbe i rischi per la conservazione e la tutela dei reperti stessi. In questi giorni, inoltre, con le abbondanti piogge, parte di quella recinzione è stata divelta a causa dell'urto delle acque piovane e la stessa massicciata in terriccio a monte degli scavi si è rivelata insufficiente a contenere l'acqua. Il risultato è che molta terra si è riversata sugli scavi, ricoprendoli in parte. Ma la cosa più assurda è che nell'intera area è assente un servizio di guardiania, tale da fungere da deterrente per vandali e tombaruli. Dottor Vinella, noi siamo reduci questa mattina da una visita presso il sito Cane della Battaglia, un sito archeologico, e purtroppo quello che abbiamo constatato è l'assenza di guardiania, anche a seguito dei ritrovamenti recenti delle terme di San Mercurio, non c'è una vigilanza e questi siti archeologici potrebbero essere preda di tombaruli, di vandali, tant'è che mancano anche le panchine che sono state divelte, rimosse da qualche malintenzionato dalla stazioncina. Sì, grazie ad Amica 9 che ci permette di portare direttamente a conoscenza del largo pubblico questa situazione che riflette uno stato di cose che il nostro comitato sicuramente deplora. E deplora perché si tratta di notevoli fondi che sono arrivati dalla comunità europea e che comunque, fino a questo momento, pur essendo stati investiti nello scavo archeologico, non hanno finora prodotto quei ritorni in termini economici, di turismo, di valorizzazione di questo territorio che tutti quanti si aspetterebbero. Noi abbiamo anche notato attorno agli scavi archeologici una recinzione che comunque non impedisce a chiunque comunque di entrare direttamente sugli scavi. Ecco, anche una montagnetta di terra che doveva riparare dall'acqua piovana insufficiente con gli scavi che sono stati in parte anche ricoperti dalla terra perché questi giorni è piovuto. Sì, la ricostruzione è molto attenta e molto puntuale, grazie. Il problema è che effettivamente, fin da come è stato impostato il capitolato di appalto, sono state previste tutte le possibili voci di spesa, meno che quella della guardiania. E io, noi, ci domandiamo come è stato possibile ritrovare questi bellissimi mosaici e questo insediamento del primo secolo dopo Cristo senza pensare a tavolino che una volta ritrovati bisognava conservarli e bisognava difenderli da vandalismi che purtroppo già si sono in parte verificati a danno della nostra stazioncina lì sulla ferrovia Berletta Spinazzola ma che implacabilmente possono verificarsi anche su quei mosaici. Dottor Minella, ora è il momento della critica e della denuncia. Successivamente come intendete muovervi? Sì, proprio ieri sera ho avuto un contatto informale con l'avvocato Antonio Gorgoglione che è l'attuale assessore ai lavori pubblici che per conto del sindaco Maffei porta avanti questo come altre opere pubbliche nella città di Berletta e in presenza anche della dottoressa Scommegna, la dirigente ai beni culturali, abbiamo fatto presente in maniera ufficiosa che effettivamente bisognerebbe ritagliare un'economia di spesa nell'ambito del capitolato di appalto per garantire un minimo di vigilanza che in questo momento grazie anche alla denuncia vostra e degli altri mezzi di informazione deve essere sicuramente presa in considerazione dall'amministrazione e anzi invito ad Amica 9 a verificare se quanto io affermo a nome del nostro comitato sia vero e quindi a domandare all'amministrazione in una prossima puntata che spero venga fuori quanto prima se effettivamente dall'ufficiosità concordata ieri si passi all'ufficialità. In che senso? Individuando uno, due, tre concorsi e mettendo in condizione ciascuno di presentare una sua offerta e quando parlo di consorzi mi riferisco sia alla Guardia Campestre che ad altri similari tipo vigilanza di modo che si possa scegliere il migliore offerente e dare in modo a coloro i quali già presidiano quel territorio a livello di eventualmente sventare furti che in questo periodo sono a carico degli olivicoltori per esempio e quindi ragionare in questo senso, visto che comunque rendete un servizio ai proprietari dei fondi agricoli lo rendete anche alla città di Barletta, mettiamoci d'accordo sul compenso e andiamo avanti a risolvere di fatto questa situazione.